Igeneservice è un'impresa di servizi ambientali specializzata in deratizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. L'Isola d'Elba al Parlamento Europeo delle Imprese, l'iniziativa realizzata da Euroschambre e l'Associazione Continentale delle Camere di Commercio sostituisce i 751 parlamentari dei diversi paesi con altrettanti imprenditori. Tra le 73 aziende italiane presenti a Bruxelles c'era anche quella di Franca Rosso, titolare di Igeneservice e dell'azienda di Dermocosmesi, Health & Beauty. Beh, è stata un'esperienza entusiasmante direi, probabilmente irripetibile, insomma, capita non molto spesso. Questi incontri nel Parlamento Europeo delle Imprese vengono fatti ogni due anni e vi partecipano tante imprese di tutta Europa, quanti sono gli europarlamentari, esattamente 751 europarlamentari e altrettante imprese. Ci hanno parlato soprattutto di quelle che sono le tematiche più scottanti in questo momento, le chiavi d'accesso, diciamo, alle prossime mosse che l'Unione Europea farà. E si parla molto di crescita e di occupazione. Internazionalizzazione, competenze, finanza ed energia, questi i temi sui quali le delegazioni imprenditoriali hanno avviato un primo scambio di idee con i rappresentanti delle istituzioni dell'Unione Europea. E quindi alla fine della presentazione c'è stata la possibilità di intervenire per massimo un minuto ogni presente, bisognava mettersi in nota, alzare la mano, venivamo fotografati e potevamo intervenire per un minuto dopo di che veniva levata la parola. Veniva registrato tutto, per cui tutto ciò che è emerso in quella giornata sarà tenuto in debita considerazione poi dai politici. Che valore ha per l'Elba la sua presenza a Bruxelles? È significativo che l'Elba sia stata presente con me e mio figlio, quindi eravamo in due aziende elbane su 75 aziende italiane e quindi credo che questo sia abbastanza bello, interessante, essere presente e far vedere che la nostra isola c'è. Devo dire anche che ho avuto un incontro separato poi con Elisabetta Gardini alla quale ho fatto presente il discorso del PAES sul quale puntiamo molto noi qui all'Elba e l'ho chiesto se si potrà poi dare una mano, le ho lasciato il mio biglietto da visita e mi ha promesso che l'avrebbe passato all'onorevole Tajani che mi avrebbe poi contattato per vedere se c'era qualche opportunità per noi. Comunque si aprono ora, si apre il nuovo quinquennio per cui ci saranno i fondi strutturali, quelli che passano dalle regioni e noi saremo molto attenti a non farci scappare le opportunità perché ne abbiamo tanto bisogno anche sull'isola.